la ultima come se dice la ultima e nos vamos mi auguro vi sia piaciuta questa la mia lezione del latino senza coppia soprattutto in questo periodo che non possiamo ballare in coppia così impariamo le basi scusate ma devo fare pure la queratina quando tutto questo finisce era una batuta è una cosa veramente importante allora dicia che spero che le abbia gustado mi classe, questo è latino io sono di Venezuela e questo, così balliamo noi ok, sono ballerina e insegno oltre 70 stili di danza diversi vengo dal flamenco sono una professora di flamenco però mi piace ballare un po' di tutto in fortuna edad il latino nel corazon in Venezuela quando uno nasce già sta ballando ok vamos a fare la ultima pachamo orientale certo possiamo fare orientale assolutamente sì bene ok allora pachamo così ultima la ultima e non vamos come se dice e preparare il rancancancan che è una salsa molto 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 che usiamo in Venezuela la chiamiamo una salsa brava e se è brava, è perché non sta contenta e agraviata e vamos a unire tutto lo che diciamo non se va in la bachata, però vamos a usar la cadera che usiamo in la bachata qui la vamos a intensificar sempre con una base di salsa ok? vamos a fare passi vamos a fare il pezzo vamos a fare il bacino la cintura e sempre molta sonrisa e molta tecnica quando llevo con i brazi come è? no è questo e non è questo ma è questo o è questo o è questo ok? muy bene vale un beso, muchas gracias vai io non so ballare ma ti insegno io vale, va, va la ultima muchas gracias vai 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti